Questa la panoramica delle protagoniste in campo, abbiamo già analizzato le formazioni Tocco all'indietro ancora per Abra Amson, palla in orizzontale e intelligente per Tognolo che prova ad aprirsi lo spazio per il tiro Ancora Tognolo, calcia col destro, Lemei smanaccia in angolo, buona occasione per il Napoli, se l'è costruita Martina Tognolo Brava anche a passare di fisico, di forza, su Miasci, conclusione angolata ma non forte Si è rifugiata in angolo a Did Lemei, incrocia Cleland, legge bene il movimento Tognolo che però poi non riesce a tenerla Ancora Cleland, occhi negli occhi con Erzen, parte il cross, il colpo di testa, la grandissima parata di Aguirre sull'incursione di Brignoli Andiamo a rivedere, Cleland per Brignoli che attacca il primo palo di testa e gran risposta di Aguirre Colpo di testa, sul pallone l'Anna Cleland ha avuto una grande occasione, il Sassuolo con Brignoli Destro che gira di Cleland, il colpo di testa di Ferrato, non era uscita benissimo Aguirre Quello di Brignoli che ha generato il calcio d'angolo, poi questo di Ferrato Attenzione a Porcarelli perché il Sassuolo adesso è un po' spaccato, aspetta i rinforzi Porcarelli che apre a destra e lo fa bene Con precisione trovando Caia Erzen, si butta dentro a Cuti, palla che gira di Goldoni Che adesso ci ha preso gusto a calciare dalla distanza però Sono rimaste indietro soltanto Filgens e Brignoli Punizione di Parisi, destro che rimane un po' lì, attenzione il Napoli si trova nei guai Bugeia, col piatto Napoli che si è trovato nei guai perché non è riuscito a liberare l'area Un pallone così, è troppo ghiotto per Alei Bugeia Primo gol in campionato Al suo score anche per questa annata 21-22 della Serie A Team Vision Prima un liscio di Bugeia, pallone che rimane lì, tocca all'indietro Miasci e poi il piattone Del numero 7 del Sassuolo Che è avanti a Cercola con il gol di Alei Bugeia Saratui Erzen prende bene il fondo, qui distratta la difesa del Sassuolo Erzen palla nell'area piccola Dove in qualche modo si salvano le nero-verdi Occhio ancora però al tentativo di Porcarelli Murato, si è salvata l'Emei Di forza Ferrato che prova a passare al limite dell'area Ferrato l'appoggio su Dubcioba E sbaglia clamorosamente la cieca Occasionissima per il 2-0 del Sassuolo Voleva un ultimo tocco delle giocatrici del Napoli che non è stato concesso Deppi, il tocco in profondità per Popa di Nova Che prova a infilarsi l'intervento di Dongus Attenzione, il cartellino è rosso Chiara occasione da gol Sì, Davina Filcens ha buttato giù Che si è giocata chiaramente anche un po' il fallo tattico per impedire E' finita qui Triplice fischio esattamente al minuto 94 Da parte dell'arbitro Gualtieri di Asti Vince il Sassuolo a Napoli con il gol sul finale del primo tempo di Alei Bugei Grazie a tutti Grazie a tutti